Quando mi vedi provi invidia? Perché ho un fisico migliore del tuo? Perché ho una vita più bella della tua? O perché faccio le cose che vorresti fare tu? Pensi che l'invidia sia odio? Ma non è così. L'invidia è desiderio. Non puoi essere invidiosa di qualcuno o qualcosa che non desideri veramente. La gelosia è un indizio, una direzione, un punto sulla mappa della tua vita. Ma questo desiderio è bloccato da paura, confronto, stress, insicurezza e molto altro. Quindi invece di direzionare quell'invidia verso il mondo o me stessa, indirizzala verso l'ispirazione, verso la motivazione. Esplorala, appoggiati a lei, concediti il permesso di avere quella determinata cosa che vuoi. Dopodiché alza il sedere e vattela a prendere. Ognuno di noi ha una missione, ognuno di noi ha un compito e un percorso che deve seguire. Tu non puoi continuare a guardare me, perché anche se dovessi seguire me e fare il mio stesso percorso, comunque rimarrai frustrata e rimarrai male. Perché non è il tuo, non è la tua vita, stai cercando di copiare la mia e non stai ascoltando il tuo vero essere. Di conseguenza non potrai altro che sentirti incongruente, perché non stai seguendo quello per cui sei veramente qui. Si parla di motivazione, disciplina, devi utilizzare entrambe. Devi utilizzare sia la tua razionalità, sia le tue emozioni. Perché? Perché entrambe hanno un limite. Certo, tu puoi pensare di avere uno scopo, segnarti il perché, cosa devi fare nei minimi dettagli. Ma ci sarà un momento quando non avrà più un senso razionale, il fatto di dover far fatica, di dover spingere. Ed è qui che dovrai far entrare le tue emozioni, dovrai prendere in prestito la rabbia, dovrai prendere in prestito la frustrazione, il dolore, la passione. Tutto quello che senti dentro per continuare a spingere e dire io non mollo. Tu puoi fare qualsiasi cosa tu voglia, puoi diventare qualsiasi cosa tu desideri essere. E se continui a pensarlo ti si apriranno continuamente nuove strade, che ovviamente sbloccheranno nuove mentalità. E ti servirà sempre aumentare mindset e approccio per arrivare ad un gradino ancora più alto. Sai ciò che pensi, no? Lo sentiamo dire da un sacco di persone ma non capiamo effettivamente quanto potere il nostro pensiero abbia su di noi. Ma la verità è che il pensiero produce una reazione chimica all'interno del nostro cervello. Quando noi pensiamo a qualcosa di positivo, magari pensiamo a qualcosa che vorremmo fare, qualcosa che faremo in futuro, qualcosa che abbiamo fatto nel nostro passato che ci piace tanto, attiviamo direttamente nel nostro cervello un neurotrasmettitore che si chiama dopamina. E questo innescherà subito una reazione fisica che ci farà sentire più felici, più motivati, più emozionati e gasati per la cosa che dobbiamo fare. La stessa cosa vale per i pensieri negativi. Se io penso tutto il giorno a che cosa potrebbe andarmi male, al fatto che non sono brava, non sono abbastanza, che ho paura e tante altre cose, questo attiva dei neurotrasmettitori che daranno l'impulso al nostro corpo di essere tristi, insicure, insoddisfatte, frustrate e chi più ne ha più ne metta. E secondo voi, se noi attiviamo questi meccanismi positivi o negativi giorno dopo giorno, rinforzandoli sempre di più, Che risultato potremo ottenere? Se pensiamo positivo, estremamente positivo. Se pensiamo negativo, estremamente negativo. Sei ciò che pensi. Ciò che pensi non rimane semplicemente nella tua testa, ma influenza completamente chi sei e le azioni che farai. Se vuoi vivere la vita dei tuoi sogni, se vuoi diventare la versione migliore di te stessa, devi ascoltarmi. Presta attenzione alle scelte che fai. Le persone fanno delle cattive scelte, si alzano al mattino e fanno delle scelte sbagliate, Poi vanno a letto, si alzano al mattino successivo e fanno altre scelte sbagliate, poi il mattino successivo ancora e altre scelte sbagliate ancora. Ed ecco che hanno appena creato l'abitudine a fare scelte estremamente cattive. E così si limitano a guardare gli altri, lamentandosi, criticandoli e continuando a chiedersi No, ma perché io no? Come posso fare? Come posso raggiungere? Non ho le possibilità? Sentendosi continuamente frustrati perché non in grado di raggiungere i loro obiettivi e il loro successo. Loro cercano di arrivare ad un punto, aspirano a quel punto, ma continuano ogni giorno a fare scelte sbagliate. Quali sono i tuoi obiettivi? Scriveteli, devi averceli chiari in mente, punta in alto, non avere paura. Nella mia vita ci sono due frasi che mi hanno completamente aperto gli occhi e spero che lo facciano anche con te. La prima dice, quanto in grande sogneresti se sapessi di non poter fallire? Quanto è vera questa cosa? Noi siamo gli unici ostacoli che abbiamo nella nostra vita. Il fatto di continuare a pensare che possiamo fallire, che gli altri poi ci giudicheranno, di che figura faremo, ci limita costantemente e non ci permette di fare quello che vorremmo veramente fare. E così smettiamo di sognare, smettiamo di pensare che possiamo diventare quello che vogliamo e viviamo la vita in base a quello che gli altri pensano sia giusto per noi. Ma se tu fossi certo di non poter fallire, pensa a un bambino. Quando tu chiedi ad un bambino che cosa vuoi fare da grande? Ti dice, non lo so, forse voglio andare a lavorare da McDonald's, forse voglio andare a fare la donna delle pulizie, o forse voglio semplicemente fare l'impiegata in un ufficio, ovviamente tutti i lavori estremamente degni di rispetto. Ma quello che voglio dire è che quanto effettivamente è più difficile diventare un dottore, un pugile professionista, il miglior corridore del mondo, un'attrice di Hollywood o un'astronauta? Ma è questa la risposta che vi darà un bambino, perché il bambino non ha paura di sognare in grande. E questo è quello che devi fare tu. Perché se sapesti di non poter mai fallire nella vita, che qualsiasi cosa tu scelga effettivamente riuscirai a farla, qual è la cosa che scegli? È quello che stai facendo attualmente? La seconda situazione che mi ha subito svoltato la vita è... Ma se tu dovessi, ovviamente speriamo di no, ma cadere in coma e dovessi risvegliarti non ricordando tipo nulla del tuo passato, e arrivasse un medico, un tuo parente, un qualcuno a te caro, e ti dicesse che prima dell'incidente eri il campione mondiale di box, come viveresti la tua vita allora? Te lo dico io, ti sveglieresti alle 5 del mattino per andare a correre, faresti ore e ore di allenamenti, dormiresti bene e mangeresti sano. E questo perché? Perché questo è quello che sei, questo è quello che ti hanno detto di essere. E se tu sei convinto di essere il campione mondiale di box, ti comporterai come il campione mondiale di box. Perché questa è l'identità che tu associ a te, e vi assicuro che non c'è nulla di più caro a cui noi teniamo. La nostra identità. Se continui a dirti che sei un fallimento, che non ce la farai, che non vali niente, questo è quello che sarai, perché ti stai creando così la tua identità. Ogni essere umano è legato tantissimo alla sua identità. Se io credo di essere una ragazza sportiva, farò di tutto per essere e dimostrarti che io sono una ragazza sportiva. Se tu sei una ragazza vegetariana farai di tutto per farmi capire che in realtà la tua è la scelta migliore. E farai di tutto per dimostrarmi che il tuo comportamento rispecchia esattamente ciò che dici di essere. E ve lo dico anche perché questo è sfruttato per manipolare tantissimo la mente delle persone. C'è stata una guerra, non entriamo nei dettagli, in cui c'è stato il maggior numero di soldati disertori, ovvero che hanno tradito la loro patria per andare dalla parte dell'avversario. E sapete come ha fatto l'avversario a prendersi tutti questi soldati dalla sua parte? Niente torture, niente ammazzati, niente minacce, niente di tutto questo. Beh, sicuramente non sono stati molto gentili, ma li hanno rinchiusi in uno studio effettivamente per ore, facendo loro degli interrogatori effettivamente un po' lunghini. Ma al di là di questo continuavano a fare domande a questi soldati sul che cosa si potesse migliorare nella loro patria, su che cosa non andasse effettivamente bene, su che cosa avevano da lamentarsi. E quindi voi immaginatevi questi soldati stremati e stanchi a scrivere giù, eh, non mi piace questo, effettivamente potrebbe migliorare questo, non è buono questo, e a dire tutte cose negative della loro patria. Dopodiché gli dicono, ok, e invece nel nostro paese che cosa c'è di migliore rispetto alla tua patria? E giù che tutti questi soldati dicevano, cavolo, effettivamente, mettendoli a confronto, questo è meglio, questo è meglio, questo è meglio. E una volta che il soldato aveva detto che effettivamente il paese avversario era meglio della propria patria, doveva essere coerente con la propria identità. E così in questa guerra si ebbe il numero maggiore di soldati disertori. Perché sì, una volta che noi diciamo delle cose, diciamo, io sono una corridrice e corro, corridrice, corridora, corre, corro insomma, e corro tutti i giorni e farò questa gara e sono così. Una volta che ci identifichiamo così, noi faremo di tutto per raggiungere questo obiettivo. E la stessa cosa vale nel negativo. Se io continuo a dire che io sono un fallimento, non valgo niente, sono un tossicodipendente, lo sapete perché molti tossicodipendenti non riescono ad uscire dalla loro situazione? Perché continuano a pensare di essere dei tossicodipendenti. Molte persone che hanno avuto problemi di droga continuano ad identificarsi in degli ex tossicodipendenti. Le persone che fanno l'assalto più grande è perché smettono di identificarsi in quello. Sì, in passato sono stato questo, ma adesso non sono un ex tossicodipendente, non ho più nulla a che fare con la tossicodipendenza. Sono una persona nuova, sono una persona sana, che non ha nulla a che fare con nessun tipo di droga. E quando si creano una nuova identità, loro rispecchiano quella loro identità. E questo ve lo posso far capire anche in un'altra ottica, che è stato scandalo ormai su YouTube del video di Marco Tomasin sulla Games Week. Perché secondo voi Marco è così convinto di quello che dice? E perché secondo voi tutti i gamer gli sono andati così contro? Perché ognuno cercava di salvare la propria identità. Marco è uno che non gioca ai videogiochi e crede in quello che dice, e doveva portare avanti la sua identità e il suo pensiero. Tutti i gamer che probabilmente ci guadagnano anche da quello che fanno, dovevano effettivamente salvare la loro identità. La nostra identità è la cosa più importante che abbiamo e la salveremo ad ogni costo. Decidi che tipo di identità vuoi avere tu. Vi voglio dire un'ultima cosa estremamente importante ed interessante che vi farà capire tantissime cose. La mediocrità. La mediocrità è ovunque al giorno d'oggi. Noi cerchiamo sempre un modo facile per fare le cose, scampiamo sempre il modo difficile. Dopodiché ci lamentiamo e ci giudichiamo. Facciamo finta che io abbia dieci amici e che questi amici siano tutti mediocri. Mettiamo anche che io sia la migliore tra questi miei amici. Di conseguenza mi senterei estremamente grandiosa. Il fatto è che questi miei amici sono persone mediocri. Quindi io mi circondo di persone mediocri per far sì che io possa effettivamente risultare come grandiosa e per far sì che loro mi dicano esattamente ciò che voglio sentirmi dire. Ma al secondo in cui noi entriamo in un gruppo di persone che sono un po' fuori dal normale, che sono al di sopra della media, non ci piace assolutamente quello che proviamo. Quel sentimento di sfida che ci provocherebbe una persona che si sveglia alle 5 del mattino e ci dice dai su mettiti i vestiti che oggi andiamo a correre. Non ci piace assolutamente, non ci piace assolutamente quell'impegno. A noi piacciono quelle persone che quando effettivamente diciamo no sai sono stanca, oggi ho il ciclo, oggi sto male, non ho molta voglia, ci dicano ma sì dai tranquilla hai ragione, effettivamente per un giorno non fa nulla, va bene così, anzi se vuoi ci prendiamo una pizza e ci guardiamo Netflix tutto il giorno. Noi vogliamo circondarci di persone mediocre, di persone che giustifichino il nostro non voler far nulla. È per questo che è così comune vedere sotto i commenti di persone che invece fanno soldi, hanno successo, un sacco di persone frustrate che scrivono eh no non è giusto, loro non fanno niente, io mi sbatto 10 ore al giorno in miniera. Ho qualcosa contro chi va in miniera, assolutamente no, ma se questa persona fosse contenta di lavorare in miniera, effettivamente non dovrebbe passare il suo tempo a commentare le persone che invece fanno altro, giusto? Ve lo dico io come funziona. Quando voi iniziate ad andare un po' sopra la media, a inseguire i vostri sogni, a lavorare, a lottare, sarete da soli, vi abbandoneranno un sacco di persone. Voi uscirete, farete più soldi, avrete più successo e supererete quel livello. E quando magari ritornerete al vostro paese e rincontrerete i vostri amici di tanto tempo fa, vi rivedrete tutti lì ancora così a fare le stesse cose che fanno da 10 anni, con le stesse persone, con le stesse dinamiche, frustrati e infelici come sempre. E saprete qual è la prima cosa che faranno nei vostri confronti? Vi prenderanno in giro. Eh sì, perché a loro va bene prendervi in giro, perché il fatto che effettivamente voi stiate sbagliando, o che il vostro lavoro sia facile, giustifica il fatto che la loro situazione mediocre vada bene. O il fatto che magari io sia donna e che abbia il sedere, che io sia riuscita a fare tutto questo proprio per quello. Eh certo, sono tutte giustificazioni, perché effettivamente se anche tu avessi il sedere e anche tu fossi una donna, allora saremo tutti allo stesso livello, giusto? Eh no, il fatto è che chi è più in alto, chi ha più soldi, chi ha più successo, chi è più felice nella vita, è perché è disposto a sacrificare molte altre cose e a lavorare tanto duro. E io vi faccio tutto questo discorso, perché lo sto vivendo in primis con il mio ragazzo. Oramai mi sto mantenendo da sola e se guardo indietro ad un anno fa, cavolo, ho fatto veramente un salto da gigante. Se dovessi frequentarmi con le persone che frequentavo un anno fa, veramente mi sentirei apposto grandiosa, con uno stipendio buono, una vita perfetta. Il fatto è che non so come mai ho deciso di rimettermi, vedete, in questa situazione. Ovvero io continuo a circondarmi di persone che mi stimolano, mi stimolano da un lato e dall'altro mi fanno sentire anche sempre una m***a. Non importa perché questo mi permette di crescere sempre di più. Adesso io sono affiancata da un uomo, è un uomo che fa questo lavoro da molto più tempo di me, ha molta più esperienza nel settore, e quindi ovviamente dico, cavolo, non è assolutamente niente. E sapete questo cosa mi porta? Non ad odiare il mio uomo, ma mi porta a voler fare di più, mi porta a voler lavorare di più, mi porta a voler creare di più. Dovete essere in un mindset di abbondanza. Se voi vedete qualcuno e odiate questa persona a primo impatto così, perché magari ha un fisico migliore del vostro, perché vedete le storie ed è sempre alle Maldive, in costume, eccetera, non odiatela. Non commentate sotto, sei stronza solo perché hai le tette. No, perché forse ha fatto anche qualcos'altro per arrivare là. Perché forse tu nella sua stessa situazione non ti saresti saputa comportare allo stesso modo. È vero ci sono tante ragazze belle al giorno d'oggi che sono sui social e fanno tanto, ma vi assicuro che non è per niente facile essere una bella ragazza sui social e mettersi in mostra, ve lo posso assicurare. E se fosse così facile, allora perché non siamo tutte sui social a fare milioni? Lo sapete quando mi dà fastidio, quando magari io ho il ciclo e voglio stare a letto e vedo Marco che si sveglia comunque alle sette e mezza del mattino e va a correre? Io dico, ma che cavolo, ma questo qua non ha mai voglia di stare seduto, non ha mai voglia di riposarsi? O quando gli dico, dai ci prendiamo una pizza? Dice no, no, mamma mia c'è stato un periodo in cui proprio era super strict e non mangiava schifezze e mi dava stra fastidio perché io volevo invece avere qualcuno al mio fianco che mi permettesse di mangiare qualche schifezza. Invece se so che tu sei così perfetto, metti in evidenza quello che non sono in grado di fare io perché effettivamente è che non vorrebbe avere un bel fisico, stare in salute, avere una vita perfetta, guadagnare un sacco di soldi, no? Il fatto è che per avere tutto questo devi fare dei sacrifici e quando hai a fianco una persona che è costantemente disposta a fare quei sacrifici ti mette davanti il fatto che tu non sei a quel livello perché tu non hai voglia di fare i sacrifici. Ma noi non vogliamo questo, noi non vogliamo attorno a noi delle persone che ci mettano in evidenza quello che noi non stiamo facendo e che ci faccia costantemente vedere le nostre debolezze e che soprattutto ci dimostri che effettivamente tutto quello che noi continuiamo a dire che è impossibile fare, è impossibile raggiungere, è estremamente fattibile. Quindi ora ti rifaccio la domanda. C'è qualcosa che invidi in me o in qualsiasi ragazza che segui o conosci? Quella è la tua direzione. Prendine atto e inizia il tuo percorso.